6 anni dopo i Colorado Rockies tornano ai playoff, era dal 2018 che la formazione di Denver non arrivava in un palcoscenico così importante avendo vinto la divisione, il Corsfield sarà il fattore campo di questa serie, ci giocheranno tre sfide qui nella migliore delle ipotesi due sfide nel campo degli avversari e gli avversari sono ancora una volta i Los Angeles Dodgers, nostra bestia nera di division battuti però nella rincorsa al titolo della Enel West ma sulla carta i Dodgers sono sempre favoriti è una partita molto interessante, 101 vittorie per i Colorado Rockies in stagione regolare, 94 per i Los Angeles Dodgers due squadroni che sono per darci battaglia in una serie al meglio delle 5, chi vince tre partite passa al turno successivo i Los Angeles Dodgers vengono da un turno di wildcard vinto per 2-0 e hanno molta carica da sfruttare in campo e lo fanno subito con Max Monsi che batte questo doppio dell'angolo morto a destra, raccoglie Adam Duval doppio per il numero 13, tre pari nella parte alta del sesto, i Colorado Rockies erano entrati in partita con un vantaggio di un punto subito rimontato dalla battuta di Max Monsi, il doppio è comunque importantissimo per mettere punti sul tabellone dunque situazione di perfetta parità ma l'inerzia è tutta in questa gara 1 almeno per i Los Angeles Dodgers J.D. Martinez impatta il lancio del grande ex Dustin May, Yonatan Dazza tenta il recupero ma è scavalcato arriva il punto del 4-3 segnato dallo stesso Max Monsi, altro doppio per J.D. Martinez c'era poco da fare, Dustin May ha piazzato una palla un po' alta che Martinez ha impattato molto bene doppio per l'ex giocatore dei Boston Red Sox, 4-3 per i Los Angeles Dodgers sempre parte alta del sesto c'è Austin Barnes in battuta che colpisce in qualche modo la palla scavalca agli interni Randall Grigiac invece ha una concezione diversa da tutti noi dello spazio del tempo doppio regalato dalla mia IA a Austin Barnes, punto del 5-3 che sarebbe entrato ugualmente va a dire la verità però prendere punto in questo modo sinceramente non è sto granché, doppio regalato a Austin Barnes e punteggio appunto 5-3 che rimane tale in realtà fino nella parte bassa del nono dove entra Evan Phillips che in stagione ha effettuato 47 salvezze, uno dei migliori closer della Lega e quando c'è Evan Phillips c'è poco da fare, CJ Krohn impatta questa palla ma raccoglie Freddy Freeman che provvede all'eliminazione, primo out nella parte bassa del nono per la brutta copia dei Colorado Rockies che non hanno fatto una, valida che sia una quando li ho controllati io Evan Phillips invece continua la mattanza, strike out Randall Grigiac che non si riscatta dall'amnesia difensiva di poco fa e quindi meno un out per i Los Angeles Dodgers per arrivare a giudicarsi gara 1 il battitore successivo è Chris Bryant, la superstar che è rinata almeno in questo gioco sotto la guida dei Colorado Rockies Evan Phillips ha un'eliminazione invece da chiudere il discorso l'angelo dei Phillips, giro di mazza di Bryant che è presa al volo da Max Muncy è ballgame al Corsfield di Denver vincono i Los Angeles Dodgers 5-3 e dunque conducono la serie 1-0 vittoria però meritatissima, l'abbiamo visto poco fa 10 wide contro 5 e subito dopo si gioca gara 2 si rimane sempre al Corsfield essendo che i Colorado Rockies hanno il fattore campo avendo vinto la division ma cambia poco, gara 2 è pivotal già in questo momento perché evidentemente se Los Angeles vince va sul 2-0 se Colorado vince invece impatta la serie si va sul 1-1 e quantomeno si avrà almeno una gara 4 in una serie appunto al meglio delle 5 che vede in realtà Los Angeles come favorita è vero che sono arrivati i secondi in divisione ma è tanto vero che se sono quelli di gara 1 allora anche in gara 2 ci sarà pochissimo da fare e lo vediamo sotto in queste immagini 2-1 per i Rockies nella parte alta del sesto e Mookie Betts impatta questo lancio di Antonio Senzatela e lo sbatte fuori i Colorado Rockies subiscono il fuoricampo della Superstar ex Boston Red Sox, i Los Angeles Dodgers mettono la freccia e sorpassano i Colorado Rockies primo fuoricampo in questa postseason per Mookie Betts che la spara a 433 piedi grande giro di mazza di Mookie Betts probabilmente anche il lancio di Senzatela non era sto granché in verità ma comunque questo è il colpo della Superstar che ci si poteva aspettare e anche da tutti i Dodgers rivediamo palla che cade e rimane letteralmente in mezzo al piatto Mookie Betts la gira e la sbatte praticamente fuori è veramente un grande impatto quello del giocatore ex Boston Red Sox la mattanza prosegue Chris Taylor impatta questa palla e anche questa la salutiamo 4-2 Los Angeles Dodgers fuoricampo di Chris Taylor secondo in questa postseason è veramente una versione di Los Angeles spumeggiante quella che è di scena al Corsfield una versione che dovevamo vedere da appassionati di baseball anche nella vita vera che nel gioco non si è manifestata si manifesta quando più conta ovvero nei playoff primo fuoricampo anche per Chris Taylor e palla che si perde nelle recinzioni del Corsfield e proseguiamo invece nella nostra sintesi con la parte bassa del set dove Ryan McMahon viene colpito dal lancio di Walker Bueller per una Colorado che deve sicuramente riscattarsi in attacco dove ha fatto figure orrende sia in gara 1 che in gara 2 ma Randall Grichak non è d'accordo e vuole smentirmi palla profonda che viene mancata da Trace Thompson e allora può correre McMahon verso casa entra il punto del 4-3 c'è speranza dunque per i Colorado Rockies per provare una rimonta doppio fondamentale per Randall Grichak che rivediamo palla impattata benissimo da Grichak manca l'intervento non Thompson ma in realtà JD Martinez doppio dunque per Grichak punto del 4-3 con due eliminati e dunque c'è chance per i Colorado Rockies che si sicuro hanno nell'attacco il punto di forza ma entra Yancy Almonte per i Dodgers nota di colore Almonte è un ex di turno è stato scambiato per avere Will Smith ai Rockies ma Almonte fa quello che deve fare ovvero il lanciatore di livello e mette strike out Adam Duvall attacco dei Rockies silenziato cambiamo anche noi invece il lanciatore entra Ryan Fedner che sarebbe un partente in verità ma nella votazione stretta dei playoff è riciclato esattamente come rilievo e deve affrontare subito una superstar Freddie Freeman il canadese si presenta nel box di battuta lancio di Fedner giro di mazza di Freddie Freeman lungo e profondo a sinistra con la tendenza tenta il recupero ma non basta è fuori campo anche di Freddie Freeman secondo in questa postseason 5-3 per i Los Angeles Dodgers che rispondono immediatamente alla reazione dei Rockies contro la reazione appunto della formazione Los Angelina arriva il fuori campo del canadese 5-3 e di nuovo più 2 che può essere un punto di sicurezza per la formazione di Dave Roberts i Los Angeles Dodgers si dimostrano quelli che dovevano essere fin dall'inizio e i Rockies invece stanno dimostrando di fare una brutta figura al rispetto di questi Dodgers che hanno comunque una marcia in più almeno in queste prime due competizioni qui rivediamo il fuori campo di Freddie Freeman ma c'è tempo per un'altra disgrazia J.D. Martinez impatta questo altro lancio che rimane in mezzo di Feltner ed è fuori campo anche questo J.D. Martinez si iscrive alla festa anche lui primo fuori campo in postseason sparato a 400 tre piedi rispetto al punto di casa base Los Angeles è assolutamente on fire sembrano infermabili lanciati verso la conquista del turno successivo che sarebbero le National League Championship Series dove si gioca il meglio delle sette rivediamo lancio che rimane in mezzo da parte di Ryan Feltner e Martinez non si fa pregare arriva il fuori campo del 6 a 3 l'attacco dei Los Angeles Dodgers comunque a modo di mettere altri punti sul tabellone sempre Freddie Freeman sempre contro Ryan Feltner un po' per sbaglio qui arriva la valida palla impattata orrendamente dal canadese che anche per sbaglio impatta un doppio 7 a 3 per i Los Angeles Dodgers e direi che di fatto la partita si conclude qui almeno per quanto riguarda gara 2 in realtà la chance ce l'avrebbero i colorado Rockies perché abbiamo due uomini in base Chris Bryant deve affrontare ancora il solito Evan Phillips rimbalzante un po' debole però e Bryant viene eliminato da Freeman comunque i corridori sono avanzati quindi due out sì ma due corridori in posizione punto c'è speranza allora per i colorado Rockies abbiamo però uno dei uomini più ispirati imbattuta Randall Grinchak triplo dopo 3 RBI per l'esdocatore dei St. Louis Cardinals affronta Evan Phillips giro di mazza di Grinchak palla profonda ma non abbastanza arriva il recupero riuscito da parte di Chris Taylor è po' game al Corsfield i Rockies perdono anche gara 2 Los Angeles con tre civali da 6 vince 7 a 3 perentoria prestazione da parte dei Los Angelini che adesso vanno a chiudere il discorso quantomeno provarci in gara 3 siamo al Dodger Stadium di Los Angeles California uno degli stadi più iconici per giocare a baseball e abbiamo la partita decisiva se colorado vince abbiamo una gara 4 se Los Angeles vince è qualificazione al turno successivo ed è comunque favorita la formazione di Dave Roberts che ha asfaltato la formazione che ho controllato io che al secolo sarebbe allenata da Buddy Black ovviamente però Los Angeles ha fatto 12 punti in due gare e qui è addirittura in vantaggio Tony Gonsolin The Catman affronta Ryan McMahon che gira la mazza Bucky Betts è sulla palla tenta il recupero ma la manca attenzione che si aprono delle voragini in campo esterno corre McMahon fino in terza fase va per il triplo McMahon e ci riesce triplo per Ryan McMahon punto potenziale importantissimo questo per i Colorado Rockies che riescono a capitalizzare un mezzo buco di Bucky Betts che tenta il recupero dell'anno ma non ci riesce se fosse capitata questa presa avremmo gridato al miracolo invece è il triplo di McMahon che si mette in posizione punto con zero out di out adesso ce n'è uno in più Randall Grichak ispiratissimo in questi playoff lo si conferma anche in gara 3 la validina porta a casa il punto del pareggio per i Colorado Rockies 1-1 al Dodger Stadium singolo per Randall Grichak e dunque tutto da rifare per The Catman e i Los Angeles Dodgers che sono comunque sotto in questa situazione perché Jonathan Dazza per un'altra validina porta a casa il punto del 2-1 i Colorado Rockies si riscattano mettono la freccia e sorpassano i Dodgers la rimonta questa volta è a pannaggio dei Rockies che fino ad ora in gara 1 e in gara 2 l'hanno sempre subita 2-1 nella parte alta del quinto è una partita lunghissima va detto però questi Rockies sembrano avere della speranza avere un riscatto in questa gara fun fact nella parte bassa del settimo entra Justin Lawrence che ha delle statistiche impegnativamente orrende perché ha giocato pochissimo ha seguito una marea di punti ma qui se la cava battuta di Austin Barnes girata in seconda per poi essere completata in prima è un doppio gioco che libera dalle peste più complete i Colorado Rockies Justin Lawrence sono dei lanciatori più grammi e balordi di questa squadra chiamato per disperazione evidentemente ha fatto il suo non lo fa invece di Nelson Lamet che lancia questa palla impattata da Freddie Freeman che la sbatte fuori il pareggio dei Los Angeles Dodgers la superstar Freddie Freeman risponde presente è pareggio al Dodger Stadium con un giro di mazza il vantaggio dei Colorado Rockies viene vanificato il pareggio dei Los Angeles Dodgers con la sua superstar Freddie Freeman ha effettuato il terzo fuoricampo in questi playoff mai nessuno come lui e questo significa avere un line up profondissimo che evidentemente fa paura dal primo all'ultimo effettivo qui rivediamo la parabola di volo della palla di Freddie Freeman che finisce abbastanza corta ma quanto basta per essere fuori 2 a 2 e quindi tutta l'inerzia dalla parte dei Dodgers che hanno addirittura la grande chance basi piene 2 eliminati giro di mazza Chris Bryant assiste in prima terzo out questa gara 3 andrà agli inning supplementari di conseguenza è tutto da rifare per entrambe le squadre le possibilità sono eque e quindi andiamo a vedere quello che succede parte alta del decimo i Colorado Rockies hanno 2 uomini in base 2 out contro il solito Yancy Almond di Rotten da zabatte ma ce l'ha presa al volo da parte di Gavin Lux terzo out anche nella parte alta del decimo e quindi nulla di fatto per i Rockies per i Dodgers invece Chris Taylor impatta questa palla sul lancio di Suter palla che cade non arriva il recupero di Grichak è un walk of win per i Los Angeles Dodgers che rimontano e vincono 3 a 2 e non solo vincono la partita ma questo punto vuol dire qualificazione i Los Angeles Dodgers sono qualificati alla NLCS sweepando i Colorado Rockies che dunque finiscono qui il discorso da primi in division perdono contro comunque la squadra che era favorita con questa valida di Chris Taylor non serve a nulla il recupero di Randall Grichak che è un walk of che chiude la serie sia per quanto riguarda i Colorado Rockies sia per quanto riguarda il canale era l'ultima puntata della Zero to Hero Challenge una serie che mi è piaciuto veramente un sacco portare abbiamo preso il bad ending in realtà ma da un certo punto di vista i Colorado Rockies da zero sono arrivati a essere eroi perché dopo evidentemente tanti anni c'è luce in questa squadra almeno nel gioco e quindi una bella figura direi che l'abbiamo fatta festeggiano i Dodgers festeggiano la qualificazione al turno successivo i Colorado Rockies escono dopo aver vinto dopo anni il titolo di division della Enel West e chissà che l'anno prossimo non ci sia una nuova serie sul canale sempre della Zero to Hero Challenge sempre con un'altra squadra è stato veramente un piacere commentare e portarvi questa serie sul canale con il baseball vero noi ci rivedremo a febbraio per lo sprint training quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie e in generale se vi è piaciuta il saluto da parte di Matthew Thorgard Grazie a tutti